Delta propone una nuova soluzione di motion control a H10 EMC, una CPU di motion che con un master EtherCAT è in grado di controllare da 8 fino a 32 assi reali e virtuali. La programmazione avviene utilizzando gli standard IEC 1131 e OPC Open Compliant. La nuova CPU è in grado di comandare appunto fino a 32 assi utilizzando il proprio master EtherCAT, un bus di campo standard che consente anche l'implementazione di sistemi di terze parti. Delta è in grado di offrire una soluzione completa di motion control. Le prestazioni possono arrivare ad avere camme sincronizzate, taglio al volo, camme elettriche, sincronizzazione fino a 32 assi, sia virtuali che reali. Delta, grazie alla propria esperienza internazionale nel campo del motion control, ha studiato questo tipo di applicazione per venire incontro alle società che intendono offrire una soluzione di packaging o pick and place a low cost ma tenendo elevato lo standard prestazionale. Questa CPU è in grado di offrire elevate prestazioni a costi estremamente competitivi, permettendo di raggiungere prestazioni elevate e fornendo un elevato valore aggiunto di mercato. Inoltre le CPU, come tutti i nostri dispositivi Delta, possono essere collegate con il sistema eCloud. ECloud che, attraverso una scheda a connessione 3G, può essere controllata in modo remoto da tutte le parti del mondo. Il nostro sistema eCloud è un sistema proprietario Delta, che consente di avere uno spazio dedicato per le proprie applicazioni, ma anche in grado di utilizzare eCloud di terze parti. Delta è in grado di offrire una soluzione completa per l'industria 4.0. Delta è in grado di offrire una soluzione completa.